eccomi qui ciao ragazzi ciao ben torniamo a parlare di maneskin e partirei proprio da questo punto anche noi stiamo contribuendo in qualche modo stiamo parlando di loro e è un po questo che muove la macchina e che continua a muovere questa macchina imperiale che hanno messo su parlare di loro ora è uscito il disco premetto che io da tra virgolette collega da musicista da cantante d'autore cerco sempre di soffermarmi sui punti di forza in maniera lucida onesta pacata non amo le stelline non amo le votazioni da 1 a 10 cerco di riassumere di analizzare quello che posso dire se mi aspettavo qualcosina in più ovviamente i dischi vanno ascoltati riascoltati il problema è aver la voglia di riascoltarli qui non ce l'ho al momento non ce l'ho è un disco fatto bene è un disco prodotto benissimo è un disco che raccoglie diverse cose diverse cose però in linea di massima non avverto grande ispirazione come dici tu sono sempre in giro io da bravo romantico da buon romantico immagino sempre una cameretta la solitudine delle idee chitarra in mano e via perciò già di per sé l'anima forse viene un po a mancare in questa produzione non è un disco da buttare via non è una merda assolutamente no ma è troppo poco per il blasone che questi ragazzi sono riusciti a costruire la macchina è talmente forte che insomma ci vorrebbe un disco forte qui è un disco ripeto non da buttare ci sono dei riff interessanti ci sono dei pezzi interessanti troppi troppi perché 17 pezzi sono tanti qualcuno già ce l'avevano fatto sentire c'è la collaborazione con tom morello in gossip che poi a dire il vero è molto fugace molto rapida poco incisiva che vi devo dire ci sono i brani in italiano c'è sempre questo funky suona molto pop nell'insieme anch'io ho sentito dentro white stripes o altri nomi del pop internazionale è un disco che raggiunge la 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 sufficienza se non si ha il palato fine non è una merda non è una merda solo perché sono i maneskin come concetto molto meglio il precedente secondo me più ispirato brani più più fighi secondo me devo riascoltarlo in linea di massima poco mi aspettavo di più molto di più non so ad analizzare traccia dopo traccia il lavoro però mi aspettavo di più loro sanno far parlare della band sanno anche gestire al momento le energie non ho mai sentito dalle loro bobo che siamo i salvatori del rock'n'roll e più la gente e più l'impero che hanno dietro perché così non sono i salvatori del rock'n'roll non lo saranno mai e non hanno neanche il dovere di esserlo però meno matrimoni perché lì non so che cazzo hanno fatto si sono sposati meno bacini carezze parole magari un po più di ispirazione sono giovanissimi perciò sapranno sicuramente far di meglio è un disco non da buttare via quantomeno per la produzione per la bontà di alcuni riff di alcune idee manca la ciccia vera e propria secondo me ciao ragazzi poi ne parliamo ancora